No, ti c'è un gioco Bambadino Che cazzo di manzo hai? No dai, una manzo di merda Hai una manzo di merda Noda, noda Faccio che faccio No, tu, tu Nein, nein No, ti ho mangiato un chilo di fango di sabbia in bocca Non va avanti Eh? Voglio andare a destra? No, ti ho mangiato un chilo di fango di sabbia No, io ho telescopio non fio No, non c'è Ah, vacca vacca ho fatto le braccia di legno ha sbagliato non lo so si volevo fare il piedi con il solino basso non andavo più avanti non capivo, non giravamo nel piedi ma come è che ho messo la protezione sull'obiettivo qua? c'è la forza di pulirla sotto di una fiata io compro la pellicola per un ipad quante ne faccio? perchè già con quel telefono almeno quattro le faccio quanto costerà? due euro? tre? una pellicola per l'ipad ma non una pellicola figa, una pellicola di merda scusa con due euro te ne danno quattro c'è non solo un ipad per un tablet o qualcunque merda ah la 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 quanto è grosso quel cane? se vuol tirare non lo tiene quello la ok non andavo eh non è bene andiamo bene ah le palle e quel d'osso mi ha rimbalzato subito nelle palle perchè l'ho copiato, ho copiato il d'osso a me finora gli schizzi mi stanno beccando la bocca e il naso e la sua cuacina e quando ti schizzi in faccia faccio youtube eh via 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 vai paraboloide posso dire non parlare wow nota bene non parlare mai fuh 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 support fiquei super fuh no ehhh a questo è grande troppo un latte è un mad guard devo prendere i freni ma puoi fare le foto durante il video? devi fare le foto durante il video è più a posta è amorevole se non la deposta col pennello non muore unico è meno che faccio adesso che ho pulito quel pennello? non puoi pulire non puoi pulire non puoi pulire non puoi pulire è la quale non puoi pulire perchè mi tocchi il fatto e mi mordo mi merdo bravo 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 tremendo tremendo tutto è il solino basso dovrebbe essere l'ultima salita questa bella tu e la mania degli occhiali senza lenti da dai tu non il è è il è No più niente, Giuliano No 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 oppa orto l'albero c'era l'albero manera l'ultima serita comunque sono da frenare perché mi sono l'albero non frenare mica niente però è il contrario ma come non c'era ieri? ok Grazie.